Le prossime avventure potrebbero mettere alla prova il tuo equilibrio e la tua intelligenza. Potrebbero scatenare le tue incertezze e spingerti a fare domande provocatorie. Secondo me è una buona cosa. Penso che trarai vantaggio da questa prova esplorando le tue incertezze e facendo domande provocatorie tirerai la buona sorte. Potresti addirittura splendere come un sole in miniatura. In questa fase bisogna che la vita ti dia un calcio nel sedere per fargli aprire gli occhi e vedere possibilità che il minore è in grado. Coglione! 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 Grazie a tutti.